buongiorno benvenuti alla zuppa di poro di oggi venerdì 20 ottobre vi ricordo che questa sera come sempre vi romperò sempre le scatole all'inizio di queste dirette questa sera come sempre ci sarà 105 matrix sul radio 105 quindi se tra le 19 e le 20 siete macchina siete a casa siete ovunque siete siete con l'amante potete mettere la radio potete addirittura mettere sull'ipad sull'iphone sul samsung sull'android quello che cavolo volete voi potete mettere l'applicazione per sentirvela in diretta quali sono le notizie di oggi sui giornali per il terzo giorno consecutivo oggi si parla della questione di visco vi faccio un breve riassunto perché forse avete perso qualche puntata precedente le puntate precedenti sono che in italia le banche erano solidissime fino a un paio d'anni fa fino al 2015 si pensava che l'italia a differenza di quanto fosse avvenuto in inghilterra dove sono saltate la royal bank of scotland diventò la banca delle poste a differenza dell'irlanda che stava saltando a terra del nord stava saltando a differenza della spagna che si fece prestare 80 miliardi dell'europa fu commissionata a differenza dell'america che saltò il liman brothers ma stiamo parlando di un secolo fa a differenza della grecia in cui saltarono a differenza della germania in cui furono prestati molti miliardi di euro dello stato tedesco alle banche bene a differenza di tutti questi paesi l'italia era immune dalla crisi bancaria così ci avevano detto e qui purtroppo amici so che non vi sta simpatico renzi ma non questa roba qua non le aveva dette renzi ce l'avevano fatte capire i banchieri ma questo prodomo loro ci sta tutta e la banca d'italia allora in quel questo è quello che è avvenuto negli ultimi 10 15 anni che il nostro sistema finanziario era perfetto le nostre banche erano perfette poi ci siamo accorti che come tutte le altre banche siccome la crisi economica aveva morso molto le imprese italiane e le famiglie italiane le società italiane le imprese italiane le famiglie italiane non potevano restituire i prestiti ottenuti dalle banche negli anni precedenti vi ricorderete un tempo dicevamo che le banche italiane prestavano troppo poco poi abbiamo detto che hanno prestato male beh la sostanza è che hanno prestato soldi a gente che non poteva più ridargli da qualche volta ai loro amichetti spesso invece hanno prestato i soldi a al sistema economico che negli ultimi 10 anni si è ridotto e quindi non gli ha restituito i soldi e ancora il sistema bancario italiano è immune dalla grande crisi finanziaria del mondo quando poi si vede che questi prestiti non ritornano a casa si crea una gigantesca si chiamano per non farvelo capire npl non performing loans cioè secondo loro prestiti non performanti sostanzialmente come le chiamavamo noi sofferenze o incagli se volete beh che sono due cose diverse beh insomma per 200 miliardi di euro che le banche ci hanno in casa le piccole banche magari mal gestite saltano le grandi banche devono fare degli aumenti di capitale cioè chiedere capitale a voi azionisti o allo stato per mettersi a posto va bene bene in questo senso quando il pd si permette di fare una mozione tra l'altro in maniera proprio alla pd alla renzi alla boschi cioè passa questa mozione senza che se ne sapesse nulla in linea con le mozioni che avevano fatto forse italia che avevano fatto no forse italia non aveva fatto movimento 5 stelle leghisti e tutti quanti in cui dicono che il governatore della banca d'italia che ha governato la banca d'italia negli ultimi sei anni cioè ignazio visco forse ha qualche responsabilità o bisognerebbe parlare di omessa vigilanza apriti cielo come dice oggi roberto perotti non è che si può dire che ogni volta che uno mette in discussione il governatore della banca d'italia ne mette mette in discussione la stabilità del sistema finanziario italiano perché la stabilità del sistema finanziario italiano questo governatore della banca italia mettiamola chiara fino ad oggi non è che la proprio garantita al cento per cento quindi c'è questa grande polemica perché nero su bianco il pd ha chiesto questa manovra è evidente che questo cosa questa questa dichiarazione come oggi riporto nei giornali anche dopo l'intervista fatta ieri 8 e mezzo da renzi ha un significato diciamo come dice oggi qualcuno c'è rasa forse torna il renzi rottamatore e quindi il renzi che vuole stare dalla parte dei risparmiatori e non dalla parte dell'establishment ma è un'operazione molto difficile come gli fanno notare travaglio e sallusti e soprattutto bel pietro oggi sulla verità per il quale per quale motivo perché male o bene associano una di queste banche fallite al pd che è il monte dei paschi di sena e su questo non c'è dubbio è un'altra di queste banche fallite che la banca etruria la associano al papà della boschi che avrebbe tra l'altro fatto questo emendamento contro visco e visco è uno di quelli che avrebbe per due volte multato proprio il padre della boschi ovviamente quando quando i come si dicono i buoi erano già scappati cioè quando era già fallita banca etruria visco multa il papà della boschi in quale in qualità di vice presidente di questa banca etruria fallita allora è un gran pasticcio perché è obiettivo che boschi e renzi abbiano avuto come posso dire abbiano commesso degli sbagli nel sistema bancario però spicciolini robina ed è evidente che il governatore della banca d'italia ha sottovalutato il gran casino che c'era vi segnalo che il monte dei paschi di siena che è la banca del partito comunista e che è l'unica banca di tutte queste che veramente costa soldi contribuenti si comprò di per 10 miliardi di euro banca anton veneta con senza neanche una due diligence senza neanche andare a guardare bene i conti ad un prezzo stratosferico attraverso una telefonata fatta da mussari che fu presidente dell'abi e amico di tutti gli uomini potenti da tremonti al governatore della banca d'italia bene quando monte dei paschi compra anton veneta e da lì fallisce la vigilanza sta zitta e allora non è che possiamo far finta che è sempre colpa degli altri che nessuno c'ha già una responsabilità è insomma troppo tardi questa mossa di renzi troppo populista questa mossa di renzi può essere ma il dibattito di questi giornali non mi sembra che sia su questi temi scompare la patrimoniale sulle polizie vita che era una cosa scandalosa che avevo segnalato il sole 24 ore per prima la tira fuori due o tre giorni fa scompare nella notte si vergognano di quello che avevano fatto evidentemente i tecnici del governo valeva mi sembra 260 milioni di introiti nel frattempo compare una piccola norma che quella si salvatore è una mossa abbastanza elettorale per i professori universitari per cui gli scatti di anzianità si avranno ogni automatici ogni due anni e non più ogni tre i giornalisti per farvi un esempio hanno combattuto per mantenere questi scambi di anzianità scatti di anzianità ogni due anni invece sono passati a tre e quello vuol dire un automatismo non meritocratico per cui si va avanti non per merito ma per anzianità c'è un altro tema equitalia che è molto interessante italia oggi soprattutto mi sembra libero se ne occupano ha una montagna di crediti nei confronti di evasori e lusori che pare sia 850 miliardi di euro quindi il 50 per cento del pil accumulato in tutti questi anni cosa vuole fare equitalia vuol vendere questa roba a qualche privato che se le compra e va a riscuotere al posto di equitalia qua ci sono due obiezioni la prima diciamo quella d'italia oggi che dice ma scusate ma il mestiere di equitalia dovrebbe essere quello di riscuotere che senso c'ha che vendete quel baraccone esiste proprio per riscuotere quei crediti che sono difficilissimi perché magari sono di aziende straniere o italiane fallite o persone che non esistono più quindi è difficilissimo però è il vostro mestiere dall'altra parte invece libero dice hanno vinto gli evasori perché sostiene che vendendole ai privati nessuno riscuoterà non so dove sia la verità mi sembra comunque anche questo un grande pasticcio bello il titolo no bello volevo dire l'intervista di che vi segnalo di matteo zoppas che nonostante sia presidente della confindustria del veneto e questo in genere è un titolo di demerito perché in genere di confindustria si occupano quelli che un'industria non ce l'hanno zoppas un'industria ce l'ha e cose intelligenti ne ha da dire e oggi vi devo dire che la sua intervista sull'autonomia del veneto e quindi sulla referendum che si trarà il prossimo 22 ottobre è molto convincente perché lui dice noi non vogliamo fare la catalogna non vogliamo l'autonomia non vogliamo la secessione noi vogliamo semplicemente farvi rendere conto che diamo al centro italia qui all'italia roma 15 miliardi di euro e che le nostre imprese producono il 9 per cento del pil italiano dateci una mano per essere sempre più competitivi cioè è una cosa che capisce chiunque molto molto invece critica nei confronti dell'autonomia il messaggero in cui c'è titolo le tasse non torneranno mai nelle anche se dovessero vincere questi due referendum in lombardia e in veneto non torneranno mai a loro e non è vero che sono eccessivamente sbilanciate le situazioni direi che per oggi è tutto appuntamento questa sera come sempre 19 105 matrix ciao